13 dicembre 2022 ciao a tutti ragazzi buon martedì ben ritornati sul canale ben ritrovati per un'altra chiacchierata per poi prepararci alla partita di stasera perché io sinceramente non vedo l'ora di gustarmi appunto la stavo dicendo l'amichevole ma di amichevole c'è poco perché sto già pensando all'amichevole di di arsenal juve di sabato ma di amichevole c'è poco tra argentina e croazia stiamo parlando di una semifinale della coppa del mondo della prima coppa del mondo nella storia giocata in inverno e quindi chissà che non possono esserci delle sorprese come è stata una sorpresa il marocco all'interno di questa competizione vediamo un attimino e allora cerchiamo di fare anche un punto della situazione per quanto riguarda questa partita ma non solo direi di partire da qua per poi tenerci un attimino il il menu relativo alla juventus alla fine io questa sera probabilmente avrò una preferenza legata alla croazia tra l'altro argentina e croazia sono le ultime due squadre ad aver perso una coppa del mondo quindi vuol dire che almeno una si ripresenterà a giocare una finale con la possibilità di vendicare tra virgolette il gol di guaini in fuorigioco oppure il il gol e autogol di manzuki ci stiamo parlando appunto delle ultime due edizioni perse da d'argentina e croazia con timbro di un attaccante juventino degli ultimi anni l'unico attaccante juventino se così vogliamo considerarlo in questo momento potenzialmente in finale è angel di maria comunque vediamo vediamo che cosa succederà perché non lo so io mi aspetto davvero la possibilità di giocare una finale coppa del mondo croazia marocco a questo punto non perché sia scontata anzi è la finale meno scontata come dicevo l'altro giorno però è un mondiale strano è un mondiale particolare chissà non lo so tra l'altro messi pallone d'oro modric pallone d'oro di là nella francia doveva esserci un pallone d'oro che si è fatto male all'ultimo benzema fino a questo momento la francia non ha fatto fatica a raggiungere le prime quattro posizioni l'unica squadra che non ha un pallone d'oro è il marocco diciamo che bisogna capire quanto poi questi premi vanno vanno a influire fino a questo momento per dire ci sono dei giocatori che hanno overperformato nel marocco mi viene in mente ambrabat che comunque sta facendo ottimi campionati in italia ma a questi livelli qua non me lo immaginavo a livello di coppa del mondo stasera secondo me è molto interessante io spero che la croazia possa arrivare a strappare il pass per la finale e che domani possa farlo il marocco vediamo un attimo che cosa succede anche se ovviamente io ho pronosticato la francia campione del mondo all'inizio degli ottavi di finale quindi la mia idea rimane quella sulla probabilità però poi la preferenza è un'altra roba attenzione perché oggi nicola balice sul corriere dello sport scrive un articolo pogba non corre all'arma juve palestra piscina e terapie questo il programma personalizzato di paul pogba ma fino a questo momento pogba quindi 13 dicembre metà dicembre non è ancora tornato a riprendere confidenza con il terreno di gioco non è ancora tornato a fare una vera e propria corsa e dato che come vi dicevo abbiamo appunto la l'amichevole sabato con l'arsenal è l'amichevole finalizzata a rimettere energia nelle gambe corsa forza anche riprendere un la confidenza con il terreno per chi appunto viene da un infortunio come pogba non è una bella notizia anche perché verosimilmente pogba non sarà convocato per amico di sabato se fino adesso ha fatto palestra piscina e terapie ma non ha corso non può essere in grado di essere schierato in un amichevole proprio perché non avendo ancora corso ed essendo fermo da tanto tempo sarei stupito di vederlo in campo a londra con l'arsenal sabato sera alle 19 quindi attenzione che pogba potrebbe essere assente potrebbe essere assente alla ripresa contro la cremonese e tra l'altro si sta parlando anche di vlaovic che adesso dovrà cercare di capire se completamente guarito la pubalgia e in questo caso sarà dell'amichevole sabato in caso contrario invece si ritornerà a ragionare sul recupero su anche magari in questo caso terapie palestra piscina e quant'altro da una parte queste sono notizie negative anzi da tutte le parti sono notizie negative perché stiamo parlando di infortuni di giocatori lato juve dall'altra però vi dico se stiamo a parlare di queste cose qui significa che stiamo davvero per tornare in campo e quindi questa è una piccola notizia positiva anche se le notizie rimangono negative ma il parlare degli infortuni rimane qualcosa di di bello tra virgolette proprio perché ti fa capire che si sta avvicinando il ritorno in campo della juventus quindi queste monitoriamole queste due strade pogba e vlaovic perché ovviamente stiamo parlando di due giocatori a caso ecco averceli non averceli fa abbastanza differenza soprattutto in un gennaio anzi a partire da un gennaio che sarà bello denso perché poi dobbiamo recuperare questo mese di stop causa a catar 2022 che per fortuna ormai è giunto alla fine allora ieri parlavo di intercettazioni vecchie che vengono riportate dai giornali della cosa che non mi piace e più di un commento mi ha scritto quale sarebbe il problema di riportare intercettazioni vecchie nel senso se sono cose che portano a far venire fuori passatemi il termine tra molte virgolette del marcio che siano vecchi che siano nuove non c'è problema e sono d'accordo da questo punto di vista ma ripubblicare intercettazioni che ribadisco fino a questo momento non hanno un peso specifico importante perché le intercettazioni che sono state distribuite abbiamo parlato tanto è in questi giorni da fine novembre ad oggi ne abbiamo parlato tanto ma soprattutto sbatterle in prima pagina soltanto perché un cda si dimette dal mio punto di vista non è particolarmente etico perché io sul giornale voglio leggere notizie fresche notizie nuove cose appena accadute se un giornale mi ripropone notizie del novembre dell'anno precedente soltanto perché è accaduto una cosa che poi potrebbe riagganciare queste intercettazioni ma non viene specificato nelle prime pagine con i titoloni che sono notizie vecchie magari viene detto nel trafiletto magari viene detto alla fine magari non viene nemmeno detto per me questo non è un modo logico di comportarsi non è nemmeno il modo giusto di gestire un giornale in maniera seria sono i miei due centesimi valgono meno di zero fa lo stesso questa è la mia posizione se per qualcuno invece riportare comunque intercettazioni è una cosa logica una cosa che va fatta una cosa senza problemi anche in questo caso nessun problema stiamo osservando delle visioni differenti per me non è una maniera logica di gestire le informazioni perché le informazioni deve essere fresche cioè se io mi compro il giornale mi leggo che l'anno scorso c'è stato un incidente perché in questa giornata non ci sono notizie ti dico allora che cosa ho comprato fare il giornale io voglio aggiornarmi voglio sapere le ultime novità se la realtà se la quotidianità se le le ultime notizie vengono riassemblate con dei tagliacucci senza nemmeno magari mettere in evidenza il fatto che non si sta parlando di cose inedite allora secondo me non si sta facendo un buon lavoro però questa è la mia ovviamente posizione e ribadisco ci sono delle linee editoriali poi che devono essere seguite perché i giornalisti sono soltanto tra virgolette anche qua molte virgolette degli operai che lavorano seguendo le indicazioni di chi dà le indicazioni quindi c'è tutta una scala gerarchica come sempre però ribadisco io leggere intercettazioni dell'anno scorso decontestualizzate in un momento delicato difficile e anche di difficile comprensione ai più perché stiamo parlando di una vicenda che bisogna andare nello specifico bisogna veramente andare nello specifico a livello di competenze tante volte mi si dice nei commenti dei video è a parlare di questa roba stai facendo schifo ragazzi non ne ho mai avuto la possibilità di formazione in questi ambiti non posso per forza di cose avere la preparazione di chi queste cose le ha studiate è impossibile cioè sarei un fenomeno sarei bravissimo sarei una persona incredibile invece sono una persona comune sono l'uomo medio che semplicemente prova ad informarsi e prova a dire la sua opinione non sono niente di più di questo il tifoso medio jeep e riterazione del reato attenzione perché ieri sono venute fuori ulteriori notizie lato jeep e cioè che questo documento queste pagine del jeep in realtà non sarebbero di ieri come vi ho spiegato nel video ieri non sarebbero nemmeno del primo di dicembre ma addirittura di 61 giorni fa 61 giorni fa il che significa che se il jeep ha davvero escluso l'ipotesi di riterazione del reato 61 giorni fa viene un po a crollare a cadere la tesi che io vi ho sempre portato qui sul canale che vede a protagonista e dirigente della juventus il cda della juventus che si dimette per il rischio di riterazione del reato cosa significa questo che potrebbe esserci altro dietro che magari il documento del jeep non è uscito davvero 61 giorni fa io sono andato sul sito del tribunale di torino sono andato nella sezione jeep non ho trovato niente non ho trovato note non ho trovato quest'articolo quindi mi viene anche un po difficile in questo momento collocarvelo temporalmente sicuramente il primo di dicembre era già uscito perché come vi ho fatto leggere ieri c'era gli articoli che lo riportavano 61 giorni fa potrebbe essere vero assolutamente sì io ricordo certamente il primo dicembre tanti giornalisti che quella notizia l'hanno riportata se poi tutto sport ieri si è svegliato con la voglia di fare un articolo anche qui su una cosa vecchia vale il discorso di prima che sia una cosa che danneggia la juve che sia una cosa che favorisce la juve per me trattare argomenti vecchi su un'edizione inedita è una cosa un po così poi ovvio che se c'è magari un qualcosa in più di inedito che va a modificare allora va bene anche se ribadisco poi ovvio che è il gioco delle parti devi vendere il giornale però bisogna anche cercare aver rispetto un po per il lettore quindi è un momento complicato sicuramente lato media siamo più verso il muoversi male che il muoversi bene il che non significa che tutti i media si stanno muovendo male e il che non significa che tutti i giornalisti stanno lavorando male assolutamente non è questo il caso però se devo mettere su una bilancia immaginatevi proprio una bilancia un'altalena di quelle che ti siede va su ti siede va giù metto tutto quello che è uscito in questi giorni ok e cerco di valutare il lavoro complessivo di tutte le testate di tutti i giornalisti pende molto più sul si è lavorato male ma per quello che dicevo prima è un argomento delicato un argomento spinoso è un argomento che va trattato in un certo modo e invece in un momento in cui manca il calcio in italia giocato con la serie a in un momento in cui magari il mondiale non tira nemmeno tanto perché l'italia non c'è la linea editoriale di diversi editoriali di diversi organi di informazione è proprio quella di cerchiamo di di metterci una pezza cerchiamo di di tornare alla serie a cerchiamo di mungere la vacca finché grassa sentite che termine che uso e magari tanti giornalisti sono anche costretti tra virgolette a fare determinate cose che magari anche loro non considerano etiche io per fortuna in questo momento ho proprio la fortuna e credo che sia veramente una fortuna di potervi dire tranquillamente liberamente quello che mi interessa quello che mi pare quello che penso non ho nessuna linea editoriale a seguire la linea editoriale l'ha detto io sul mio canale youtube e quindi vi riporto quelle che sono un po le mie riflessioni poi ribadisco per fortuna ci sono tanti giornalisti invece che comunque stanno lavorando e anche molto bene sono stati utili secondo me anche per la mia formazione per quello che che è stato il mio modo di ricostruire tutta la vicenda perché lo dico per la terza quarta volta è difficile spinosa e complicata soprattutto per uno come me che è un uomo comune soprattutto per anche tanti di voi che sono persone comune che non hanno una formazione in queste cose ma per fortuna invece dall'altra parte sempre da parte vostra c'è chi queste cose le studia e mi ha pure aiutato nella creazione dei video nel chiedere alcuni dubbi quindi secondo me stiamo facendo un buon lavoro noi un lavoro molto amatoriale perché un lavoro molto amatoriale però secondo me stiamo facendo un buon lavoro di qualità all'interno di questa vicenda cercando sempre di portare avanti il solito concetto e cioè qui non si sta facendo passare a io e per innocente non è quello non sono un giudice non sono un tribunale la cosa che si vuole portare avanti è cerchiamo di dire le cose come sono da una parte dall'altra cerchiamo di togliere tutta quella valanga di sterco che è già stata versata abbondantemente e cerchiamo di fare chiarezza perché in questo momento c'è soltanto della gran confusione